And now, ladies and gentlemen, we give the welcome, welcome, diamo il benvenuto ad un new member, una nuova membra, nuova membro, scusate, una nuova iscritta, Lila Katarin. La mia, diciamo, venticinquesima iscritta, il mio venticinquesimo iscritto, certo, non tanto, ovviamente, pensate a David Lynch, cioè, io rientro negli ultimi due zeri degli iscritti di David Lynch che ce n'ha 334 mila, però per me è già un onore avere questi iscritti, pensate a 25 persone che entro a questa mitica stanza con la mitica window, poi dei carri dei cortini, dei grill roller shooter, pensate a 25 persone sedute qui, tutte ad ascoltare a me, mi affaccio alla finestra e faccio il report. Per me, già sono tante 25 persone qua dentro, già sarebbero tante, quindi già è tanto per me che ci sono 25 persone al momento che mi sanno sentire, sanno sentire le mie cretinate, perché principalmente dico solo cretinate, certo non dico cose serie. E poi, sì, prima di chiudere un saluto alla nuova iscritta, diciamo, a quanto ho capito, che si chiama Lila Katarin. Ahi, io un saluto sempre speciale, diciamo, alle donne, perché per me sono, mi aiutano un posto a parte, sono speciale anche quando mi commentano, avete un'altra considerazione, un'altra e un'alta considerazione per me, oltre al fatto che sia soggettivamente, ma è anche oggettivo, siete sempre più importanti di noi uomini, senza di voi praticamente, non dico che non saremmo nulla, però non saremmo quello che siamo, quindi grazie. E poi, sì, se mi vuoi spiegare, diciamo, quel bene con l'espressione, te ne sarei grato, come ho già scritto nel commento, perché io sono italiano, poi non ho studiato lingue, conosco ovviamente, altrimenti non potrei dire certe espressioni in inglese, in americano, però, quell'espressione non la so, quindi, si sarei grato, si è lieto, se mi dicessi il vero significato, quell'espressione. Comunque, ti ringrazio, poi questo, diciamo, i saluti li faccio in genere, quando si scrivono nuovi membri, li noto, li saluto sempre, poi il giorno dopo, comunque, dopo che noto il loro Nick Rimm, il Weater Report, poi alla fine i saluti, li saluto, quindi, è una cosa tradizionale, sì, diciamo, al video pensiero, allora ci vediamo, se lo faccio, penso di sì, o a domani, a great day again, grazie Lila.